Sissà... Basta Sold Sold So edôdzia Ecco Hashtag hinduеть che è pure la mia andate a recuperare quello che abbiamo combinato sul what's my value FIFA 23 che ha bellissima guarda andatela a recuperare detto questo ciao ragazzi ben ritrovati a tutti 5000 mi piace se arrivano entro oggi io vi riporto oggi stesso immediatamente un altro what's my value ma a sto giro ci possiamo reinventare un'altra volta tutti i campionati minori quelli un po' più piccoli oggi abbiamo intenzione di andare sulle cose un po' più serie A e i più preziosi del mondo e via dicendo possiamo fare la Superliga Turca possiamo fare la Bundesliga possiamo fare i campionati che conosciamo de meno la Superliga Turca la Superliga Turca quindi preparatevi 5000 mi piace non appena arriveranno ve lo pubblichiamo anche oggi stesso se no con calma poi arriverà un nuovo episodio iscrivetevi e attivate la campanella su tutti i canali youtube che ci abbiamo questo secondo De Calcio De che? la borra secondo De Calcio terzo extra calcio eh l'ha detto ok tutti i canali qui sotto in descrizione tanto metterò i bip perché ormai qua si fa più di niente o durante il video compariranno qui prima di continuare però devi consigliare loro se ancora non l'hanno fatto di scaricare OneFootball la migliore applicazione per seguire tutto ma proprio tutto il mondo del calcio statistiche notizie curiosità ai lines delle partite serie A serie B serie C risultati delle partite in tempo reale quando c'è sta il calcio mercato vediene aggiornati a 360 gradi qualsiasi cosa fa la vostra squadra ve lo dice che cosa state aspettando se ancora non ce l'avete è gratis ci mettete due secondi a scaricarla dal link in descrizione Senti te faccio scegliere a te no scaldiamo i motori che non abbiamo più fatto per il momento difficoltà sempre campione no io ci vedo figurate vai ah giustamente vince chi ne fa de più con i nuovi acquisti giustamente c'è anche Luca Pellegrini non me lo immagina però si sa che è sempre bello aggiornato quindi Pellegrini Lazio Gollini altro no sarebbe stato più bello il contrario secondo me guardiamo più la zeppa subito subito però se presume che Gollini ultimamente le prestazioni non ne abbia sfornate tantissime per cui il valore si è abbassato non è per niente piglia zeppa di qua della mandragora io penso che perlomeno più di 5 milioni li valga 9 milioni d'euro ok va benissimo voi c'è Ccesni forse 10 13 13 vabbè ci poteva arrivare non mi arrabbio perché qua effettivamente qua Musso qua Musso si è si è più giovane di Ccesni si le prestazioni comunque un buon portiere 16 mamma mia l'ho detto con po' di con po' di remore Henry sicuramente più basso 4 e mezzo 4 e mezzo mi sembra un po' poco onestamente Brain Diaz sicuramente più alto senza ragionarci troppo 20 va benissimo vai Marcos Antonio sicuramente più basso d'alberto figurate Carlos Augusto Carlos Augusto che sta fornendo delle buone prestazioni io aggiungerei ottime prestazioni più che buone comunque eh li parrà a valutazione del mercato i prezzi dovrebbero essere aggiornati eh però se vabbè 4 e mezzo e Marcos Antonio vabbè lasciamo per vai sorvoliamo ma posta ma sta a mettere Monza di Gennaro di Gregorio 20 i nomi ma non è questa l'hanno giuggerita questo proprio il colligno dal cilindro questa glielanno fa questo il colligno dal cilindro questa glielanno mamma mia ragazzi che numero infami che numero infame capra capra sold 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 questo è proprio un numero è una vergogna proprio un numero eccezionale non è possibile chiunque chiunque urlerebbe allo scandalo con una cosa del genere perché dopo quando c'è 4 e mezzo meno 4 e mezzo non c'è sta dici sempre più arto mi devi spiegare come hai fatta a mette uguale vai perché ho ragionato pensando che facendo parte della stessa squadra a caso vai no ho sparato si 5,8 magari hanno messo pure le virgole senti lasciamo perde tanto che ho già capito come basta sfida con come basta sfida ad essers no 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 ma adesso è pure alla mente ha fatto 15 12 tutti difficili tra l'altro difficili per dire difficili no se guarda me lo fanno apposta fabbio allora arriva da svincolato destinuto oggi 22 ragazzi attualmente non li può vale 20 lo scherziamo lo scherziamo ragazzi per era è forte per era è forte la capoccia mi dice che vale meno dei 14 difficilmente i giocatori dell'udinese ragazzi che ti dico io qua i denti io non credo io vado più sugli opposti o è de più o è de meno senti io provo a dire almeno 15-16 6 e mezzo tu con la capoccia cioè ma Pereira ma è bellissimo tu con la capoccia non c'è stai proprio ma tu madre tu con la capoccia non c'è stai proprio ma tu madre 6 e mezzo Pereira oh ma guarda che cominciano in anni cioè i 30 l'assume sembra che i 30 l'abbia superati ma è forte e ho capito che è forte però non è più il Pereira che abbiamo visto fino a un paio di stagioni fa è calato lui te rendi bene vabbè dai diciamo che è quasi indolore 1-0 guarda 1-0 un indolore proprio qua mi sono seduto su un cetriolo lungo 25 centimetri vabbè dai vai vai è tanto sono abituato figura che ormai non sento più niente vai il doppio esatto 7 e mezzo contro 15 pellegri direi che è più basso 5 a lui tutta roba bella liscia fluida come l'olio sì sì come l'altra uguale uguale orsolini 7 non c'è posso infatti che te pensavi sì una volta po' bega presumo leggermente leggermente ammazza 18 bel valore vabbè duvanza non lo so perché le prestazioni sono indubbiamente calate ha perso anche il posto da titolare c'aveva una bella valutazione ma addirittura scesa sotto i 18 può essere che vale 15 16 17 forse tanto sta a fare tutto questo teatrino lui lo sa già no qui l'ha già indovinato vai vai vabbè vabbè ti la fuori il coglione dal cilindro guarda vale 7 te lo dice pure prima di clicca su più basso dice vale 7 mi veda di più alto ma so sicuro che lo sbaglio mamma mia 18 mamma mia 18 uguale uguale io avrei detto più basso io mi devi credere ci ho pensato per un attimo io avrei detto più basso no io avrei detto più basso avrei detto 16 avrei pensato 16 4 Basic Begao prima ho andovinato una e ho sbagliato sul calciatore dell'Udinese adesso mi mettono un calciatore dell'Udinese e te la sbaglio subito immediatamente allora Begao ed è qui che io adesso voglio ragionare voglio cercare di capire perché poi guarda l'infamia questi osanno questi osanno che toccava a me ti mettono come base 7 e te dicono come base Basic eh te dicono Begao che comunque zitto zitto c'ha avuto pure l'interesse anche delle milanesi c'ha avuto anche l'interesse stringi la valutazione stringi che è più alto identico o più basso stringi può essere 6 7 o 8 scegli fai la tua scelta Pereira è la 6 e mezzo 10 mamma mia ci voleva tanto a caso andata a caso ci voleva tanto eh sì Lazio Udinese sì ma Fabio se io sparo più basso ma ne che va sbaglio certo è più basso non ce la posso fare 25 35 35 35 porca miseria allora con questo mai pareggiato 6 a 4 guarda 1 da 7 no dai è facile è facile beh leggermente più alto sarà 13 no 20 ancora 20 correa 6 1 a 1 posso andare vai rami più basso non me li devi suggerire devo mettere record io non me sta scassando allora più alto 20 20 bocconotti cinzia poi so che vi mancano torneranno anche quelli 6 5 5 va bene nel mondo 4 e mezzo 5 proprio la media media champions poi tra l'altro decilio leggermente più alto leggermente più basso invece 4 e mezzo vabbè 1 a 1 vai qui si decide ancora con suo Monza e poi guarda Galazio sempre Galazio 22 Zaccagni direi che devono sempre regalare la roba più basso direi ok poi poi Dybala direi decisamente più alto 30 andiamo avanti con Pablo Marica abbiamo visto poc'anzi ma è il Monza Edition non so what's my value di Fabio gatti 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 se decilio vale 4 e mezzo presumo che gatti essendo un pochino più giovane varrà 5 e mezzo no vale identico affatti c'hai l'opportunità ce l'hai dai questo già è fatto il secondo lo indovini perché è sicuramente più basso addirittura più alto hai fatto già 3 2 3 3 ascenne tu hai fatto 3 però io ho fatto 3 sarà 18 7 e mezzo pregalo così poco dai uno simile non ci posso credere non ci posso credere no io non perdo così io non perdo io cancello sto video non lo pubblicherò mai no calcola che se io perdo non lo pubblicherò mi hai già pareggiato questa qua ti è utile per vincere se ti ripassa la palla è finita la valutazione è quella ragazzi 7 7 e mezzo 8 grunic addirittura mezzo in mezzo vai tu 7 e mezzo si te dico no identico 7 e mezzo 8 7 e mezzo 8 proprio decimale ce vai esatto eh rega grunic gioca poco dice ma è un giocatore per milan io vado sul più basso poi tu tu no ma se pregalo ma se pregalo vale 7 e mezzo a me è sempre quello il discorso ma se pregalo vale 7 e mezzo tu devi pure vai c'è un qualcosa da su te la mettono sempre là in quel momento per fatte sopperi no per fatte perire si no per in vai duncan sarà più basso 6 e mezzo fa tutto vai felipe anderson mi sembra che un po' si è rialzato il valore 15 tortellino che è qua più basso che è squalino 4,8 ma che è squalino che è come si chiama sua sua squalino va bene squalino avevo letto squalino l'ho letto vai ademola lukman direi che più alto 20 milioni si ha fatto 90 gol in serie a 20 milioni vai biglial più basso 10 però per biglial c'è una bella valutazione si andiamo avanti con arcadius milic sta a pensare what's my value fifa 81 79 come lo traduci quel 79 milioni di euro vai vai e vabbè ho capito vabbè è il terzo identico che mi capita si ma quando gli faccio prima non l'ho fatto tre figurate sei no tre dei fatti laureante non ce la faccio più non ce la faccio non ce la faccio più non ce la posso fare non ce la posso fare ma che c***o ne so io quanto vale questo dai su forza io rischio alla prossima per un nuovo video ragazzi ciao ho chiuso ho chiuso eh